È sorprendente il modo in cui, nel paese che custodisce la gran parte dei tesori dell'arte occidentale, nella patria di Michelangelo, di Caravaggio, di Petrarca, di Raffaello, di Leonardo, di Monteverdi, di Leopardi, di Pascoli, di Ungaretti, di Palestrina, di Dante, di Bernini, di Puccini, di Verdi, di Manzoni, di Giotto, emerga sempre di più la mancanza di consapevolezza circa il ruolo che in ambito educativo spetta alla bellezza. Mentre la scuola impegna le sue mattinate nella continua ideazione e realizzazione di progetti orientati all'acquisizione di competenze, mentre anche il legislatore dedica sempre più impegno alla promozione di apprendimenti di tipo pratico e funzionale, la scuola sembra dimenticare la centralità che la cultura in sé stessa meriterebbe. Basterebbe incentrare la sua azione sul patrimonio storico-artistico del nostro paese, in una parola sulla cultura, per ottenere il raggiungimento di obiettivi di profonda importanza, che comprenderebbero implicitamente anche le tanto esaltate competenze che oggi tanto spazio occupano nella scuola. Uno studente che, per fare solo un esempio fra tanti, impari ad apprezzare la bellezza dell'arte, a conoscerla, a comprenderne i contenuti, non avrebbe alcun bisogno di una spiegazione sul rispetto dei luoghi storici della propria città. Non avrebbe bisogno di qualcuno che gli spieghi che scrivere sui muri, per esempio, è un atto vandalico. Tutto ciò sarebbe implicito nella sua educazione. Uno studente che al pomeriggio, per esempio, frequenti lezioni di musica, è difficile che maltratti ingiustamente le cose, i luoghi o le persone. Egli avrebbe acquisito il senso del bello, che, come gli antichi ci insegnano, è sempre legato al bene e al vero. Talos è sempre anche Agathos. È probabile che, nella convivenza pur iniziale, con la bellezza dell'arte, avrebbe, almeno più facilmente di altri, ha preso la percezione della bontà e della verità dei rapporti fra le persone. Senza bisogno che un gettonatissimo corso sul bullismo gli offra ulteriori spiegazioni astratte. La bellezza è strettamente, inscindibilmente legata alla verità e alla bontà. Tale legame è implicito fin dall'antichità e non ha bisogno di ulteriori spiegazioni. Tokalon, in greco, vive tra la sua valenza cosmologica di ordine, quella morale di bontà, quella estetica, quella sociale e politica. Ciò che è bello è anche buono. Ciò che è buono è anche vero. Non dunque la scuola dell'apprendimento utile è ciò che manca, ma quella dell'esperienza estetica, quella capace di proporre la bellezza in modo disinteressato, l'apprendimento non orientato ad alcuno scopo, se non quello della maturazione interiore del soggetto, attraverso il rapporto con la bellezza stessa. Quello che ancora manca, noi crediamo, è una rinnovata attenzione per la dimensione estetica e per il suo valore educativo senza eguali. L'intensificazione di una via pulcritudinis, di una introduzione alla bellezza, dovrebbe avere un ruolo fondamentale nella scuola, di ogni ordine e grado, dal liceo classico agli istituti tecnici. Eppure impressiona, volgendo lo sguardo al nostro patrimonio culturale, constatare in quale piccola misura esso sia implicato nella quotidiana attività scolastica. In che misura i nostri ragazzi ricevono la proposta di porre lo sguardo con attenzione e dandovi un adeguato tempo sulle opere d'arte. La singola ora settimanale che a questa disciplina è riservata offre un'idea della consapevolezza su questo punto. Quando ai nostri studenti viene proposto l'ascolto di almeno alcuni capolavori che la nostra storia della musica custodisce, l'assenza pressoché completa della musica d'arte dal sistema scolastico appare, come sappiamo, una sorta di scandalo culturale reiterato negli anni. Ma anche soffermandoci a discipline che trovano invece spazio nella scuola, quando i nostri studenti hanno occasione di porsi dinnanzi ad un testo poetico, senza che l'obiettivo del lavoro sia la sua analisi, semplicemente per gustarlo, conoscerlo, comprenderne la bellezza, quando si dà tempo alla semplice lettura e rilettura di un'opera. L'impressione è che manchi semplicemente la percezione dell'importanza della dimensione estetica, che la scuola non abbia più il coraggio, se non nell'iniziativa di singoli insegnanti consapevoli di questo, di essere un luogo in cui si propongono agli studenti le cose bellissime da cui ogni italiano è circondato, non per farne occasioni di verifiche e valutazioni, ma perché sono belle e fanno crescere, cioè educano. Educano l'uomo, lo riportano a se stesso, alla sua interiorità, che dal rapporto con la bellezza esce cambiata, rinnovata. Come diceva Sant'Agostino, è la contemplazione della bellezza che porta l'anima verso la propria interiorità, e questo è oggi auspicabile. che si formino ragazzi che sanno guardare dentro di sé, che sappiano fare silenzio per ascoltare sé e percepire con evidenza che cosa è bello e che cosa invece no, che cosa è bene e che cosa invece non lo è. Questo fa crescere e offre un apporto insostituibile attraverso un'educazione al bello, cioè appunto al bene e al vero, anche ai problemi oggi tanto dibattuti, come la correttezza nei rapporti, il comportamento. I ragazzi che avranno imparato a fermarsi davanti alla bellezza, a riconoscerla, a scoprirla, sapranno via via imparare a fermarsi anche dinnanzi alle cose che incontrano, un paesaggio, il volto di una persona, ogni alterità, e la guarderanno appunto come qualcosa di altro da sé, perdendo quella autoreferenzialità che oggi, nell'epoca del selfie, del parere spontaneo, della chiacchiera istintiva, caratterizza tantissimi giovani. Tanti volte, infatti, il problema è che i giovani non sanno più guardare e ascoltare, vedono solo se stessi in modo peraltro superficiale, e non si accorgono delle cose che pure hanno di fronte a sé, e nemmeno, dunque, della propria interiorità. È attraverso quella che potremmo definire una via pulcritudinis, una introduzione al rapporto con la bellezza, che essi impareranno che il mondo non è sorto con loro, ma infinite cose li precedono, cose degne di essere conosciute e studiate, per imparare a comprendere se stessi. Così apprenderanno il rapporto con l'altro da sé, come ancora si legge negli scritti di Agostino. Contemplo la bellezza del mare che mi sta intorno, mi stupisco, ammiro, cerco l'artefice, levo gli occhi al cielo e alla bellezza delle stelle, ammiro lo splendore del sole, capace di illuminare il giorno, e la luna che consola le tenebre notturne. Sono cose meravigliose. E chi impara a guardare fuori di sé, poi apprende anche a guardare la propria interiorità, ad ascoltarsi, a comprendersi. Mentre la superficialità regna in gran parte della società, e soprattutto nei mezzi di comunicazione, mentre spesso la sciocchezza, largamente diffusa, invade le menti dei nostri studenti, inducendoli ad una disabitudine al pensiero critico, alla riflessione, al giudizio, consola constatare che vi è in loro qualcosa che sempre e comunque attende la bellezza e sa riconoscerla. Lo vediamo, a scuola, nei rapporti e in certe loro domande che gridano la ricerca di un senso complessivo e unitario delle cose. La scuola, allora, dovrebbe forse incentrarsi principalmente sulla dimensione estetica, dando ai giovani quante più occasioni possibili di questo rapporto con l'infinito, come suggestivamente si legge in un racconto di Somerset Mugam, in una nostra traduzione dall'inglese, dove un personaggio si rivolge all'interlocutore dicendogli la bellezza, poche volte la vedrai faccia a faccia, guarda bene, perché ciò che vedi ora non lo vedrai mai più, poiché l'istante fugge, eppure rimarrà una sorta di imperitura memoria nel tuo cuore, stai toccando l'eternità. Bisogna che i giovani facciano l'esperienza della corrispondenza che la vera bellezza porta sempre con sé e vengano in questo modo sottratti alla mentalità, oggi così in voga, che fa apparire buono solo ciò che è utile. Riccardo Muti, in uno degli innumerevoli appelli volti alla valorizzazione della cultura italiana, ha scritto Se togliamo ai nostri figli la possibilità di avvicinarsi all'arte, alla poesia, alla bellezza, in una sola parola alla cultura, siamo destinati a un futuro di gente superficiale. L'Europa ha alle spalle una storia importantissima, ora non può dimenticarlo. Basterebbe che i governi togliessero un po' di denaro alle cose superflue e lo destinassero prima all'educazione, poi all'educazione e quindi all'educazione. È giunto il momento in cui ciò che appare inutile, l'arte, la poesia, la musica, insomma la dimensione estetica, si sveli nella sua verità di somma utilità, che sbaraglia ciò che sembra utile e invece ad uno sguardo profondo si rivela ad un tratto cosa assolutamente secondaria. Noi crediamo che l'urgenza di oggi è che i giovani imparino non a fare, ma ad essere. Non sarà decisivo ciò che sapranno fare, ma ciò che essi saranno. La cosa più utile nel contesto odierno è che i giovani imparino la bellezza, a riconoscerla, a comprenderla, ad amarla. Il resto verrà di conseguenza.